Ciao ragazzi, bene bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo a fare un po' di trading su criptovalute, andiamo a vedere qualche grafico, ci spariamo un po' quello che sono le analisi da trader, quindi non investitori di lunghissimo periodo eccetera, andiamo a vedere come stanno messe alcune criptovalute, ne ho preparate più o meno 5 per voi oggi ragazzi, sono tutte quante super cripto con un grande punto di interrogativo, cosa faranno? C'è una new entry che è Waves, perché sta facendo i numeri ragazzi, una delle pochissime criptovalute ad aver fatto numeri importanti, quindi essere salita tantissimo negli ultimi giorni, poi ritorniamo a parlare di Crypto.com, Kronos in questo caso, Phantom e poi ovviamente Luna, perché su Luna in particolare, modo, c'è un piccolo pattern di inversione che bisogna assolutamente tenere sotto. Stretta osservazione per chi di voi è anche un investitore di medio-lungo periodo, non lunghissimo, però medio periodo sì, e quindi un'occhiatina gliela diamo. Allora, grafici, trading, analisi, news e previsioni sul Crypto. Kiro si iscrive al canale, è un bruffaldino come diceva la Japan Spend, ma prima di andare avanti io devo farvi anche vedere un annuncio super ragazzi, perché domani siamo con il cartello cripto a casa nostra, quindi siamo su TradingCon con il cartello cripto, ragazzi ospitiamo gli amici youtuber che vengono qui e soprattutto parliamo di un botto di cose. Vi faccio vedere l'annuncio, la live è prevista per domani alle ore 21, ci saranno un po' tutti quanti, quindi c'è Luca del Crypto Gateway, abbiamo Mindchart, Afterside, quindi Emiliano, poi ci sta CryptoItale, poi Hard Rock, vediamo se anche riesco a rintracciare anche qualcun altro. Insomma, facciamo una grande rimpatriata come facciamo sempre e parliamo di questioni della guerra, come sta impattando la macro analisi sul mercato delle cripto, l'inflazione perché è stato un argomento tirato su da Elon Musk e Michael Saylor proprio in questa settimana, le top cripto per tutti perché voglio tirargli fuori quelle che sono le top cripto per tutti quanti loro, vediamo che mi dicono e poi ci facciamo due risate come sempre con il cartello cripto domani alle 21 e non mancate ragazzi, non mi fate fare brutte figure, domani pienone perché abbiamo ospiti a casa. Vabbè, allora detto questo, qui ci sono una serie di grafici, ragazzi inizieremo a parlare già della prima cripto che è AVAX. Allora, intanto vi faccio vedere anche alcune operazioncine e vi spiego un po' la logica di questi ultimi mesi, diciamo un mese e mezzo, che sto optando, cioè l'idea di utilizzare un po' FTX come broker per fare alcune operazioni sui future di Bitcoin e sto, insomma, utilizzando da un bel po' questo exchange, ragazzi, proprio per delle operazioni stile trading, quindi proprio legate ad operazioni che aprono e chiudono più o meno nell'arco di pochissimo tempo. Ho collegato ad FTX alcuni dei miei bot, insomma qui trovate anche alcune operazioni aperte che sono state aperte, diciamo nella giornata di oggi, queste stanno andando abbastanza bene questi bot perché sono bot che stanno lavorando proprio sulla struttura del trading range del mercato delle criptovalute e quindi fanno opening position long e opening position short selling anche durante la stessa giornata oppure dopo pochi giorni. Quindi come si fa a lavorare da trader quando c'è la possibilità che i mercati oscillino in barra? Ragazzi, bisogna ragionare sia sulla posizione long, quindi andare alla buy sui mercati, quindi comprare sia short selling, quindi la posizione di vendita allo scoperto, guadagnare quando i mercati scendono. Chi di voi non sapesse cos'è lo short selling, ho fatto un super tutorial, ragazzi, un po' di tempo fa, vi lascio il link in descrizione del tutorial e andate a vedere il tutorial definitivo sullo short selling e come si realizza, che cosa fa e che cosa non fa. Su FTX vi lascio il link in descrizione perché c'è il bonus delle fee del 5% per utilizzare FTX che vi dà anche, tra le altre cose, la possibilità di bonificare, quindi usare il bonifico SEPA per immettere, diciamo, della liquidità sull'exchange e provare una serie di servizi. Penso che intensificheremo anche la operatività su FTX grazie proprio ad una serie di funzioni che ha come la QuantZone, ragazzi. Sapete che da gennaio lo sto utilizzando tanto per la questione trading, anche perché Binance non ha ancora ha riattivato i futures e siccome ci servono per fare il trading, io preferisco utilizzare questi tipi di exchange che poi in sostanza sono FTX, Prime e Delta Exchange in questo momento con delle funzioni diverse. Su FTX vi consiglio di fare questo tipologia di operazioni che sono appunto di qualche giorno in short e long utilizzando i loro futures. Fate attenzione sempre a tutti i rischi connessi, leva finanziaria e quant'altro. e poi alla questione legata al funding che è un po' costicchia. Allora, detto questo e vi ho fatto vedere qualche operazione aperta, ragazzi, proprio su FTX ma già vi dico che queste chiuderanno a brevissimo. Andiamo ad analizzare invece la prima cripto di oggi che è AVAX perché AVAX, ragazzi, sta facendo una cosa un po' particolare. Allora, non abbiamo moltissimi dati storici su questa criptovaluta che sta avviando una struttura di realzista abbastanza importante dalla sua immissione proprio grazie alla questione della DeFi. AVAX è riuscita comunque ad imporsi anche nel settore DeFi in maniera abbastanza discreta nonostante, diciamo, sia un progetto che comunque aveva dei compagni di corsa abbastanza importanti come Luna, Solana, eccetera. Comunque sta facendo assolutamente bene i compiti a casa. Questo ciclo che vediamo qui probabilmente è un ciclo annuale. Allora, la questione è un po' in versione complicata perché queste criptovalute che sono piccoline, che sono da poco, diciamo, non piccole, da poco, presenti, quindi hanno poco storico, andare a fare analisi ciclica, ragazzi, è sempre, mamma mia, se qualche, diciamo, veterano che mi ha fatto tante lezioni e tanti insegnamenti, mi vedesse fare una cosa del genere, mi prenderebbe a schiaffoni, però in qualche modo dobbiamo anche operare, ragazzi, quindi poi tra l'usabilità, tra la teoria e il fatto che abbiamo pochi dati, quindi sono poco significativi, questo significa dobbiamo comunque optare per la possibilità di utilizzare i dati, quindi Solana, analisi ciclica, è possibile che si sia chiuso un ciclo annuale pochi giorni fa. Un mesetto e mezzo, a dire la verità, che è gennaio. Questa struttura, se dovesse essere confermata, indicherebbe che dalla 22 di gennaio Avalanche potrebbe stare per iniziare un nuovo ciclo annuale. Il nuovo ciclo annuale è in questo momento, secondo me, importante da valutare, soprattutto nelle prime settimane, perché una cosa del genere ci porta, l'idea che il mercato possa darci soddisfazione nei prossimi due mesi. Ragazzi, io per il 2022, ve l'ho detto veramente tante volte, vi ho spiegato che il 2022 è un anno per trader, probabilmente. Già lo è stato il 2021, però con le altcoin che facevano qualche numero, probabilmente anche qualche holder ha fatto grandi numeri insieme alle altcoin. Non bitcoin, perché bitcoin più o meno è stato lì. Per quanto riguarda il 2022, secondo me, è proprio un anno solo per trader, cioè l'anno in cui gli holder sopravvivono, se i mercati reggono la chiusura che verrà probabilmente verso luglio-settembre, oppure poi si vede, poi ovviamente, chiaramente andremo nei confronti diciamo di un nuovo annuale, quindi secondo me la seconda parte dell'anno potrebbe essere migliore. Per quanto riguarda AVAX, è una di quelle coin che può dare soddisfazioni, perché se noi andiamo a ragionare sull'inizio di un nuovo ciclo annuale per una coin e siamo proprio nei mesi cru, cioè il prossimo che verrà aprile e maggio, ragazzi, dobbiamo salire, se non saliamo aprile e maggio bisogna prenderne atto ed è difficile. A quel punto andiamo su quelle cripto che hanno più spinta, che hanno più fase rialzista appunto ciclica, quindi in questo caso il concetto di mettere AVAX in queste criptovalute ha un po' la sua logica. C'è anche questa struttura classica, veramente classica, del triangolo come figura di eventuale inversione. Questo triangolo, ragazzi, può essere breccato al rialzo o al ribasso e definire un po' la struttura ciclica. Aspettiamo sempre fine mese di marzo, perché a fine mese di marzo potrebbe esserci uno sciacquone. In ogni caso non prenderei mai posizione su questo tipo di criptovaluta fino al superamento di alcuni determinati livelli. Uno di questi è il valore di 93 dollari per quanto riguarda Avalanche. Se arriva qui, allora io prenderei l'idea di un buy, altrimenti aspetterei una specie di doppio minimo o un minimo sporco entro la fine del mese di marzo, i primi di aprile. Quindi questa zona qui, un minimo sporco. Se lo fa, posso anche rischiare un eventuale acquisto in buy the tip, ovviamente hyper stop, ragazzi, perché in quel caso siamo totalmente contro trend. Quindi solo trader, solo formati, solo chi ha la capacità di gestire le emozioni. Non è assolutamente da fare per nessuno che non abbia studiato trading e investimenti. Quindi mi raccomando, non do consigli finanziari. Capite quello che stiamo facendo qui. Però questa è una criptovaluta che io terrò assolutamente sotto controllo proprio per questa situazione qui. Andiamo a vedere Kronos, quindi Crypto.com che cosa sta combinando. Anche Crypto.com è in questa fase di attesa, ragazzi. Crypto.com, identica struttura, sembrerebbe come Bitcoin e Ethereum. Non riesce a riprendersi dal super pump, ha fatto questo trend al ribasso, però fin tanto che il minimo 1 e il minimo 2 viene tenuto da questa criptovaluta, c'è sempre questa figurazione di coppa. Quindi la famosa tazza che potrebbe essere una figura di inversione di medio periodo. Quindi a noi bastano i famosi due mesi, ragazzi. Anche perché in questo caso anche Crypto.com sembrerebbe proprio aver chiuso un ciclo di natura annuale verso il mese di gennaio. Quindi se anche qui siamo in un nuovo ciclo annuale, Crypto.com potrebbe riprendere esattamente come a Avalanche, ragazzi. Potrebbe riprendere un trend che per aprile-maggio potrebbe dare più soddisfazioni magari rispetto ad altre cripto che invece sono in difficoltà. Le vediamo tra un poco, ad esempio, Phantom. E quindi in questo caso io la mantengo ancora lì. Vediamo un punto di ingresso per quanto riguarda Crypto.com. Anche qui non ragiono di buy the dip a meno di chiusure di questo ciclo mensile, cioè entro la fine del mese di marzo, in una zona di doppio minimo sporco proprio in questa fase. Quindi deve arrivare qui. Se arriva qui solo ed esclusivamente verso la fine del mese di marzo, a quel punto ci ragioniamo. Poi faremo magari un briefing di aggiornamento. Ma come Avalanche è identica questa cripto, ragazzi. Perché ne usiamo due? Per diversificare. Se fa una cosa del genere, questo potrebbe essere un buy the dip. Se non lo fa, solo breakout. Quindi solo se mi sale sopra i 0,45 io provo un long. Sotto questa cifra, sotto questo livello, non vado da nessuna parte. Quindi flat, 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 flat. Su questa criptovaluta passiamo a vedere Waves che ha fatto i super numeri. E poi ci restano, ragazzi, poi ci restano Phantom e Luna. Va bene? Ok ragazzi, ecco Waves messa qui. Intanto è incredibile che nonostante la questione guerra, nonostante tutto l'ambaradam, ci siano ancora criptovalute che facciano questo tipo di atteggiamento. Allora su Waves un po' di dati li abbiamo. Quindi a differenza di Avalanche, in questo caso i dati storici ci sono. E vediamo anche abbastanza bene che su questo minimo del 22 di 24 di gennaio è stato chiuso un nuovo ciclo annuale. Capite bene un po' quando chiudono i cicli annuali e che cosa combinano. L'abbiamo visto l'anno scorso su Bitcoin quando ha chiuso il ciclo annuale a luglio, che poi è schizzato ai massimi storici di novembre. La stessa cosa ha fatto Waves, però Waves vedete con un ciclo diverso, quindi è partito subito. Invece su Avalanche e Crypto.com come vi ho mostrato prima, siamo in fase di attesa, però questo è l'atteggiamento che potrebbero avere. Allora perché non andare a sfruttarlo? Questo è il concetto del trader ragazzi, magari mettendo degli ordini stop di trading appunto per acquistare magari solo a breakout oppure dei buy limit in alcune aree precise proprio e dettagliate proprio al millesimo quando si vanno a fare questo tipo di operazione. Allora Waves ragazzi è partito il nuovo ciclo annuale, quindi la fase assolutamente è positiva in questo caso sulla criptovaluta e l'ha anche dimostrato. Qui c'è una struttura ciclica mensile che dovrebbe andare in chiusura a brevissimo periodo, quindi intorno alla fine del mese di marzo. Perciò potremmo assistere al famoso pullback di questa criptovaluta sulle due medie. Queste sono le mie due famosissime medie ormai a 11 e 21 periodi che usiamo come supporto all'interno di queste due medie, come supporto. Chi di voi sa questa strategia da dove è stata presa e perché funziona? Me lo scriveste nei commenti perché ci confrontiamo. La sto per spiegare anche nel mio nuovo modulo di corso di formazione Train Time che sto registrando ragazzi, infatti sono un po' più assente in Academy proprio perché ogni giorno registro video, 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 sto preparando i nuovi esercizi perché stiamo facendo l'upgrade del corso di formazione. Molti di voi mi chiedono informazioni sul corso perché è chiuso o non è chiuso. Allora intanto ragazzi se volete informazioni scrivetemi una mail, scrivete una mail, ovviamente non rispondo io ragazzi, non sono io che mi occupo di queste cose, io sono un po' la faccia ma non l'azienda e poi vi risponderà il consulente perché l'accesso al corso è comunque possibile ragazzi, però in questo momento siccome stiamo ristilizzando tutto sono chiuse le iscrizioni dirette sul sito, quindi dovete fare proprio richiesta direttamente. Però in questa struttura, questo by the dip su Waves, perché no ragazzi? Quindi in attesa di chiusura del ciclo mensile di Waves, questa zona potrebbe essere interessantissima per un by the dip, quindi all'interno proprio di queste due medie. Una di queste zone è intorno ai 20 dollari. Se fa una cosa del genere perché no? Ricordatevi che però ragazzi questo tipo di criptovalute sono iper volati, quindi non potete investire 10k, 10k, perché poi vi fanno il 40% di stop loss, quindi dovete rendervi conto che questo tipo di operazioni vanno fatte con un pezzettino del capitale conoscendo quanto rischio avete su un'operazione del genere. Guardate quanto rischio c'è su un'operazione del genere. Voi immaginate quando è lo stop loss di questa criptovaluta. In teoria è qua sotto, sotto gli 8 dollari. Allora se si avviene una cosa del genere capite bene che si perde metà del capitale ragazzi, quindi una cripto del genere ha un livello di rischio elevatissimo, ma perché no? Se brecca i 42 se ne va in price discovery, quindi è questo il concetto. Se la prendiamo qui in questa zona e poi per caso riesce a fare questo break se ne va in price discovery, ci facciamo qualche piccolo profitto. Però queste criptovalute iper, iper, iper volatili come Waves vanno sapute maneggiare ragazzi, ok? Sono come un'arma a doppio taglio. Va saputo maneggiare molto bene altrimenti vi fate malissimo. Quindi ripeto per la settimana una volta, non sono così finanziari, ma è una strategia operativa da trader che va fatta con stop loss, con architettura, con trading plan già pianificato. Se non li sapete fare queste cose, non le potete fare ragazzi. Semplicemente state a guardare, imparate, magari provatele sul conto demo, ma non le fate con le vostre, i vostri spalli. Mia veri di una vita! Perché non finirà, non finirà. Bene, poi una volta vi può andar bene, ma la seconda ragazzi il mercato poi vi prende in contropiede, non funziona così. Allora, altro break 42, teoricamente è un buy break qui sopra questo livello qui. Anche questo potrebbe essere assolutamente tentato su Waves. Passiamo ad FTM che invece a differenza di queste criptovalute è la peggiore perché FTM dopo la questione legata ai programmatori che hanno abbandonato è diventato una cripto molto rischiosa in quanto ha breccato il minimo della sua metà del ciclo annuale e diciamo è un movimento ternario, adesso vi faccio vedere e da lì in poi si mette male ragazzi. Quindi rischiosissima FTM in questo momento. Vi dirò io anche cosa sto pensando di fare. Quindi vedete qui la zona che poteva raggiungere proprio qui anche la stessa identica figurazione, qualcuno di voi se lo ricorda, con il famoso massimo di Bitcoin alla zona di novembre ma è avvenuto che poi è catapultato giù. Quindi vedete come semplici figure di questo tipo in determinati momenti molto precisi sono lo spartiacque fra un mercato in bulla e un mercato addirittura in bear market. È proprio così che avviene ragazzi. Non vi pensate che il mercato vi avvisa 12 volte. Quando prende una direzione la prende veloce perché il mercato è così ragazzi. Non è che vi dà il telefono a casa pronto? Sì sai volevo prendere lo short, posso comprare? Sì compra dai magari. No ma sì sì compra. A molti di voi ragionano così, ogni tanto mi chiedono e dicono ma quella cosa l'hai detta una volta sola perché non l'hai detta 12 volte? Ma come si fa a dire ragazzi? Il mercato è veloce ricordatevelo. Quindi bisogna starci sopra e saperci come stare. Quindi questo mercato ha svoltato dalla possibilità long che c'era e c'era assolutamente a quella short nell'arco di 4 giorni. Anche sostenuto da una notizia negativa che è quella appunto dei programmatori. Allora la questione è legata al ciclo ternario dell'annuale di Phantom. Sì è avvenuto il break, tempo fa qualche giorno fa quando avevamo fatto il video aggiornamento il break non era ancora avvenuto, adesso è avvenuto. Teoricamente se questi conteggi ragazzi sono più o meno corretti, a meno di una struttura particolare questa criptovaluta dovrebbe avere una struttura del genere fino alla fine del ciclo annuale. Quindi Phantom pericolosa la userò in questo caso per operazioni short selling. Stiamo utilizzando magari FTX ragazzi, solo trading però magari quando ci sarà e se ci sarà un eventuale rimbalzo criptovalute di questo tipo fino alla fine insomma di luglio, settembre di quest'anno. Quindi solo trading ragazzi, non operazioni contrarie a livello old. Quindi in quel caso perché no potrebbero essere usate come sell short, quindi una fase di short selling di copertura magari per un eventuale ribasso perché non ho anche di bitcoin e di altre cripto. Lo so, un po' tecnicismi oggi però ci sta. Quindi Phantom non ci sono buy, non farò buy ragazzi. Se poi dovesse invertire succede qualcosa di incredibile ben venga, sono contento per il progetto che adoro perché io e la DeFi che la chain che uso di più della DeFi, devo essere sincero, piaceva tantissimo però dopo questa questione attenderò e non c'è niente di male ragazzi perché una cosa sono gli investimenti una cosa sono i progetti, i progetti possono essere di grande qualità, magari semplicemente Phantom in questo momento verrà penalizzato un po' di più per qualche mese e poi riprende alla grande. Quindi non mi interessa andare a farne una questione di tifo di un lato o di un l'altro questa è trading di da qui a 4-5 mesi quindi qualche mese. Perciò seguirò questa linea guida. Luna e abbiamo chiuso il video ragazzi allora Luna, Luna, Luna ha fatto il suo massimo ha fatto alla perfezione tutto quello che ce l'avamo detti in tutti i video che ho fatto negli ultimi mesi a questo punto ha dato anche l'ultimo segnale andiamola a vedere e cerchiamo di capire che cosa significa questa roba qui e cioè il segnale, non la trovo più è sparita Luna, Luna dove sei? Luna, c'era una canzone una volta qualcuno di voi se la ricorda è di tantissimi anni fa io ogni tanto la canto comunque quando vado in qualche locale a fare Baldoria va bene ragazzi allora ecco la questione di Luna vi avevo già accennato la possibilità che Luna stesse su un nuovo ciclo mensile dal 7 di marzo lo ha fatto ha fatto il massimo ha tentato il break è diventato un massimo storico questo qui ma anche un doppio massimo la figurazione di inversione che sta facendo è intorno all'ultima media la 21 cioè quella più lunga da qui in poi c'è un problema perché se Luna brecca questa zona qui e brecca le medie si riporta in questa fascia a quel punto avrà il minimo del ciclo mensile io vi do una dritta oggi questo livello 75 per quanto riguarda il ciclo mensile se verrà breccato in un'eventuale fase ribassista per esempio di fine mese che potrebbe avere anche Bitcoin probabilmente da qui a fine mese insomma avremo un po' di difficoltà anche sui mercati lo vedremo lo vediamo comunque poi lunedì ne parliamo anche domani con i ragazzi con tutti gli altri del cartello insomma Crypto eccetera ma se viene breccata questa zona ragazzi poi si scende fino alla fine del mese quindi del mensile di Luna ma non è solo quello il problema il problema è che è possibile anche che questo sia stato il massimo storico di Luna per l'intero ciclo annuale perché Luna ha un ciclo annuale che va in chiusura prima degli altri e intorno teoricamente a luglio 2022 ora probabilmente siamo sul massimo storico del ciclo annuale di Luna cosa ho fatto io? con l'operazione che vi ho mostrato sul mio videocorso ragazzi la prima puntata del videocorso del trading del trading cripto cosa ho fatto? sono uscito nella giornata di ieri perché sono uscito? perché proprio non avevo voglia di stare su un mercato semplicemente con l'operazione che era fatta di trading ve l'ho fatta su FTX ragazzi non avevo voglia di stare su un mercato che avesse questo rischio può essere anche che Luna ci riprova a fare nuovi massimi ma a quel punto poi gioco su altre carte faccio altre strategie per quanto riguarda la strategia di breakout che abbiamo mostrato in quel video si è conclusa con un rialzo notevole di guadagno vi faccio anche vedere per esempio il range di prezzo noi siamo entrati in questa zona con il breakout e abbiamo chiuso più o meno nella giornata di ieri con un più circa 46% di rendimento sul prezzo quindi sicuramente non era il super massimo fatto qui che era arrivato addirittura a 100 abbiamo chiuso un po' di meno ma non cambia ragazzi queste operazioni si gestiscono così quindi operazione chiusa su Luna ed altissimo rischio ragazzi perché ve lo sto dicendo prima che questo avvenga ovviamente chi di voi è ancora long chi di voi vuole stare long lo può ancora tentare perché solo sotto 75% diventa pericolosissimo solo sotto questo livello quindi fin tanto che non arriva a questo livello magari chi di voi vuole ancora mantenere un'operazione nel medio periodo ok ricordatevi che non è una cosa legata al lungo periodo ma al medio periodo cioè da qui fino a luglio agosto prima di agosto questo qui ragazzi non stiamo parlando di posizioni di lungo periodo però attenzione dove può arrivare una criptovaluta che scende se qualcosa si mette male dove può diciamo dove può arrivare a fare una chiusura di un ciclo annuale se le cose si mettono male e ragazzi io direi che un 50-60 punti percentuali tenetele tenetele in conto quindi bisognerebbe anche capire un po' la vostra strategia e capire che cosa volete rischiare se volete rischiare un po' di più un po' di meno o semplicemente magari portarvi a casa qualche profitto per poi magari avere più money per ricomprarla se scende un po' di più insomma ragazzi tutto è strategia come sempre tutto è ragionamento ipotesi per fare questo tipo di operazioni ma poi sono questi tipi di operazioni che vi cambiano la vita nel momento in cui siete lì e dite wow adesso ricompro il doppio di luna di prima perché li ho venduti va bene allora detto questo vi ho fatto vedere tutto quello che è la situazione queste sono le cripto che secondo me sono interessantine vi ho fatto vedere waves avax e cripto.com interessanti phantom e short luna pericolosa e ne sono dimenticata qualcun'altra no ok le ho dette tutte ci vediamo domani nella live del cartello e chi non viene è di nuovo un brufandino alla giant apps bene ciao